La richiesta di riconsiderare la decisione presa il 25 di dicembre circa la dismissione delle quote di proprietà della regione toscana che assommano circa il 40%. Questo è il messaggio partito da Palazzo Cavallo e diretto a Palazzo Panciatichi. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato una delibera proposta dal Sindaco Ghinelli con 18 voti favorevoli e 7 astenuti nella quale emita la regione a riconsiderare la posizione assunta nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Vogliamo intavolare con la regione un confronto chiedendo sostanzialmente di ritornare sulla loro decisione e di valutare insieme agli altri antipubblici, comune e provincia quale sia invece la strategia per rilanciare questa struttura che oggi soffre di una scarsa appetibilità sul mercato delle esposizioni e che invece secondo noi dovrebbe portare un contributo ancora maggiore al nostro territorio. La prima cosa che dobbiamo fare è accertarci che il capitale della parte pubblica rimanga in mano alla parte pubblica e quindi nella delibera l'unico atto che viene espressamente indicato è chiedere alla regione di rivedere la propria posizione circa la vendita delle quote. Noi riteniamo che Arezzo Fiere Convegni sia elemento strutturale di promozione e dello sviluppo del sistema economico della nostra città e della nostra provincia su questo l'amministrazione comunale che dovrebbe favorire e aiutare questo ENTA a svolgere al meglio la propria azione in 8-9 mesi perché ormai questa amministrazione Ghinelli governa da quasi un anno, ha fatto sì che ci sono stati scontri all'interno del CDA scontri con la Fiera, con la Camera di Commercio, con il Presidente di Arezzo Fiera e oggi ci chiede di trovare una soluzione il Consiglio Comunale ma che deve trovare l'amministrazione.